Se la statuaria classica può impiegare delle posture per i suoi personaggi più naturali, più dinamiche, introdurre addirittura il senso del movimento nella statuaria, questo si deve alla scelta dell'impiego di un nuovo materiale che sarebbe il bronzo. Il bronzo è un metallo prezioso composto da una lega di rame e stagno. Talvolta a questi due metalli si aggiunge un po' di piombo per ottenere un effetto più pesante e opaco nell'insieme. Ma come si lavorava per ottenere delle statue in bronzo? Si usava principalmente a partire dal VI secolo a.C. la tecnica della fusione del bronzo a cera persa. Cera come cera da api. Vi lo anticipo. Allora, vi dico subito che esisteranno due diverse tecniche di lavorazione del bronzo con la fusione a cera persa. La tecnica diretta e la tecnica indiretta. Sono due procedimenti abbastanza complessi che io spero di riuscire a semplificare per voi. Perché per arrivare a capire come sono state realizzate opere come queste, allora davvero è molto utile conoscere il procedimento. Anche perché nel prossimo video noi parleremo dei bronzi di Riace e alcune informazioni su questi misteriosissimi personaggi che sono stati ripescati nelle acque del Marionio. Sono state informazioni che sono state reperite, recuperate proprio grazie ai materiali impiegati durante questa tecnica di realizzazione. Quindi è interessante conoscerlo. Ripartiamo dal nostro Zeus o Poseidone di Capo Artemisio per capire come si procedeva. Allora, io devo ringraziare direttamente e indirettamente le immagini che ho tratte dal canale YouTube del Zanichelli per quanto riguarda la spiegazione della tecnica diretta e poi vi mostrerò immagini molto evocative e utili, efficaci per la spiegazione del metodo indiretto. Invece, in quel caso, le ho tratte da un progetto video realizzato dall'Israel Museum di Gerusalemme. Allora, partiamo a capire come era fatta la tecnica diretta. Avete visto, bisognava arrivare a realizzare una statua in bronzo alta, come vedete, 209 cm, come ad esempio lo Zeus di Cap Artemisio. Come si faceva? Come si procedeva? Per prima cosa si realizzava un modello in argilla o in gesso che avesse esattamente le fattezze che si voleva che la nostra statua finita avesse. La dimensione era leggermente minore perché, appunto, ma di pochissimo, perché, appunto, vedrete cosa succederà andando avanti. Questo modello in argilla o gesso viene definita anima. È una vera e propria statua, così come dovrà essere quella definitiva, appunto, realizzata però in terra, cioè la cotta, terra che diventa la cotta, appunto l'argilla, oppure il gesso. Molto spesso all'interno di questa anima veniva predisposta un'armatura in ferro per rendere ancora più solida e stabile la struttura stessa anche durante la lavorazione. A questo punto, quando l'anima era completata, si procedeva a cospargere, a modellare sull'anima in argilla o gesso, un sottile strato di cera d'api. Parliamo di uno strato che poteva andare dai 3 agli 8 mm, per intenderci. Ecco, la cera d'api veniva stesa in modo perfettamente aderente alla statua perché si lavorava, si rifiniva, perché l'effetto finale che la statua avrebbe avuto dipendeva proprio dalla lavorazione della cera d'api, che però era maleabile e facile, quindi, di lavorare da un certo punto di vista. Una volta finita la copertura con la cera d'api, lasciata ovviamente asciugare, seccare, l'anima ricoperta di cera d'api veniva ulteriormente coperta all'esterno da una struttura abbastanza imponente, ancora di argilla fine o di gesso. L'effetto finale era, in questo caso, vedete, con le braccia aperte, quindi una forma un po' particolare, questo vero e proprio stampo prendeva il nome di forma o, in altri casi, si parla di camicia. Cosa succedeva? In sostanza, per fare il riepilogo fino a questo momento, all'interno avevamo la nostra, come se fosse un sandwich, immaginatevi, all'interno la nostra statua di argilla o gesso, poi un sottile strato di cera, come se fosse il prosciutto, scusate la banalizzazione, ma per farvi capire, e di nuovo fuori, all'esterno, di nuovo un altro strato, come dire, di argilla fine o di gesso, che appunto inglobava il tutto. A questo punto venivano applicati una serie di canali, da un lato c'era, nella parte alta, vedete, il foro di entrata, da cui si sarebbe fatto colare il bronzo. C'erano poi degli sfiati dei vapori, lo leggete appunto in alto a sinistra, e poi vedrete che in tutto, tutto intorno alla struttura dell'anima, venivano organizzati dei canali di drenaggio, in modo tale che il bronzo, una volta colato all'interno della struttura, potesse fondere e arrivare ovunque. Nella parte bassa della nostra forma o camicia, venivano applicati dei fori per la fuoriuscita della cera. State cominciando a capire. A questo punto, la nostra forma o camicia, con l'anima all'interno, veniva messa all'interno di questi forni, che raggiungevano altissime temperature, e succedevano una serie di cose. Prima di tutto, con le alte temperature, la cera si scioglieva e defluiva, scivolava via. Ecco perché si chiama la tecnica della fusione a cera persa. Cera, che comunque è un materiale molto prezioso, ma se ne fuoriusciva. E a questo punto cosa succedeva? Che rimaneva un sottile spazio cavo, una sorta di intercapedine, tra lo strato di argilla, che a questo punto era cotta, la terracotta interna dell'anima, e lo strato di argilla, più spesso, invece, della forma o della camicia esterno. A questo punto, nello spazio cavo, in quella intercapedine, veniva fatto colare il bronzo fuso. Ovviamente, guardate, il bronzo andava a riempire tutti quegli spazi lasciati vuoti, appunto, dalla precedente presenza della cera, e quindi succedeva che alla fine della cottura, si lasciava ovviamente raffreddare il tutto, la matrice, lo sampo, la forma, la camicia, veniva aperta, rotta, spezzata, e compariva la vera e propria statua in bronzo, con tutti questi canali, i vari sfiatotoi, i canali di drenaggio, ancora tutti fusi, appunto, anche loro in bronzo. A questo punto si procedeva alla vera e propria pulitura, la fase cosiddetta di nettatura, che consisteva nell'eliminazione di tutti quegli elementi in più, e anche nell'eventuale ultimazione di dettagli, ripulitura di alcuni elementi, magari, che nella fusione non erano usciti esattamente come nel previsto. A questa fase poteva seguire una ulteriore fase, chiamata di patinatura, che consisteva, in sostanza, nell'anticipazione del naturale processo di ossidazione del bronzo, soprattutto quando le statue dovevano essere collocate all'aperto. Oppure, in alcuni casi, si procedeva alla vera e propria doratura, con una vera sottilissima foglia d'oro, che veniva applicata alla statua stessa. Ora, questo tipo di procedimento aveva però due difetti importanti. Prima di tutto, vi sarete posti il problema, è sì, l'anima in terracotta è rimasta all'interno della struttura. È vero che questi movimenti resi possibili dall'uso del bronzo risultavano, davano vita comunque a statue ben più leggerle che non le statue in marmo, in pietra o in marmo, però è ovvio che se all'interno delle nostre statue in bronzo era presente l'anima in argilla o gesso, ovviamente la struttura risultava alla fine più pesante, quindi rimaneva tutto sommato abbastanza pesante. C'era un secondo grande problema, come dire, tecnico, e cioè che con questa tecnica, la tecnica diretta, l'anima andava persa, non si poteva riutilizzare più. Ecco perché verrà creato un secondo procedimento, quello della tecnica cosiddetta indiretta. In particolare a partire dal V-IV secolo a.C., ma in alcuni casi per noi diventa difficile riuscire a ricostruire quale delle due tecniche sia stata impiegata. Ad esempio abbiamo la certezza che l'auriga di Delphi sia stato realizzato con la tecnica diretta. Per i bronzi di riace c'erano stati diversi studi, diverse scuole di pensiero, e adesso si è abbastanza certi che la tecnica impiegata, anche nel loro caso, sia quella diretta. Vado a raccontarvi adesso invece in cosa consiste la tecnica indiretta. Ecco le immagini appunto tratte dall'Israel Museum di Gerusalemme, questo progetto video che avevano realizzato appunto con la duplice lingua che vedete, l'inglese. E non so che lingua sia, se non è neanche direttamente l'arabo, ma insomma è quella. Allora, di che cosa si tratta? In questo caso, ah c'è un'altra cosa che voglio dirvi, nel caso di statue di grandi dimensioni, spesso si procedeva a parti separate, la testa, il busto, le gambe, le braccia, e poi in seguito queste parti si univano insieme con degli agganci, dei chiodi di saldatura e delle saldature vere e proprie. In questo modo, eventualmente, anche l'anima poteva essere tolta, eliminata dall'interno. In questo caso, con la tecnica indiretta, invece, il problema non si pone. Allora, vi faccio vedere questa tecnica. In questo caso, che cosa succedeva? Per prima cosa, ovviamente, si creava un modello o si impiegava un modello già esistente o si creava un modello della statua da realizzare perfettamente identico e somigliante a quella che si voleva alla fine ottenere nella dimensione e nel dettaglio. Una volta creato questo modello, si ricopriva con la solita argilla o il gesso per andare, come vedete, a creare una sorta di stampo diviso in due parti, vedete la parte verticale centrale, che infatti poi veniva separato. Quindi, in qualche modo, veniva creato uno stampo in negativo dal positivo, dalla testa già esistente realizzata appositamente, si creava questo stampo diviso in due parti, in due metà, che risultavano evidentemente cave al loro interno. A questo punto, la nostra testa, che ci serve da esempio, veniva eliminata, veniva tolta, rimaneva appunto le due parti separate, vedete. A questo punto le due matrici venivano riunite e veniva colato al loro interno, all'interno di questo spazio, di questo foro creato, la cera da api di nuovo. La cera poteva essere in realtà inserita in questo modo, appunto versata all'interno e fatta roteare la struttura, proprio per farla aderire un po' dappertutto, oppure poteva anche essere stesa con un piccolo pennellino, sempre con uno strato. In questo caso lo strato poteva essere ancora più sottile. Dicevamo, 3-8 mm nel caso della tecnica diretta, in questo caso potevamo stare davvero su una spessore molto più sottile, più verso i 3 mm. Ecco, ricordiamoci sempre che sia la cera da api, ma soprattutto il bronzo, erano materiali molto preziosi e quindi meno era importante lo spessore e meno materiale veniva impiegato e più leggera risultava la statua definitiva. Allora, una volta fatta aderire bene la cera allo stampo vuoto, la cera veniva fatta scivolare fuori, veniva versata via e a questo punto si apriva lo stampo e che cosa si otteneva? In sostanza si otteneva una sorta di, chiamiamola statua di cera, cava al suo interno. Qui vedete appunto in queste immagini davvero ci fanno vedere, esplodono verso l'alto per mostrarci l'effetto della statua cava. In questo caso vedete che non c'è la presenza di quella che verrà chiamata terra di fusione, la famosa argilla che veniva messa nell'anima all'interno. Quando si aveva impronta questa statua di cera, molto delicata, si passava a rifinire i vari dettagli con un piccolo cesello, uno strumento uccinato come questo appuntito, che serviva davvero per definire tutti i dettagli finali che la statua avrebbe avuto una volta ottenuta la fusione in bronzo. A questo punto venivano applicati questi canali in cera d'api, gli sfiatatoi, i canali che abbiamo già visto in precedenza anche nella tecnica diretta, e poi si applicavano questi chiodi in bronzo per rendere più stabile la struttura durante la vera e propria fusione. Quindi vedete questi personaggi che stanno mettendo i chiodi. A questo punto si riempiva la parte cava vuota della scultura con di nuovo argilla o gesso e argilla e gesso veniva impiegato anche esternamente per ricoprire e rivestire di nuovo la nostra statua. In questo modo vedrete che troveremo comunque anche all'interno delle nostre statue con la tecnica indiretta la terra di fusione, appunto quella che vedete che stanno versando adesso le mani che vedete a destra, in questo caso è ancora argilla liquida ma poi sarebbe diventata solida in cottura, e questo ci fornirà degli indizi importanti per capire il luogo di produzione, la scuola, la bottega e così via. A questo punto il nostro modello realizzato, la struttura, l'anima, la camicia, tutto viene inserito all'interno del forno e immaginate di vedere cosa succede all'interno. Voi vedete abbiamo la nostra testa con i chiodi di bronzo e tutti i vari canali di cera. A questo punto nel forno la cera si scioglie e scivola via, se ne va e lascia ovviamente lo spazio cavo, l'intercapedine tra i due strati di argilla, quella interna e quella esterna. E ovviamente nella cottura in forno l'argilla è diventata terracotta, si è solidificata, si è indurita. A questo punto si passa ai forni con temperature molto più altre, 1400 gradi Celsius, 2552 Fahrenheit e viene, il bronzo viene fatto fondere e viene versato all'interno della nostra stampo e a questo punto vedete che al posto dello spazio rimasto vuoto quell'intercapedine da cui nel frattempo era già fuoriuscita la cera, ecco che il bronzo fuso va a riempire tutti gli spazi. Lo vedete qui, una volta quindi lasciato raffreddare la struttura veniva tirata fuori dal forno, lasciata raffreddare e poi si procedeva alla rottura dello stampo in terracotta. A questo punto lo stampo esterno non serviva più e vedete che compariva la vera e propria struttura in bronzo con i canali, gli spiattatoi e i chiodi in bronzo che poi sarebbero stati rimossi e puliti con l'opera di nettatura che abbiamo già visto anche nel precedente metodo. Per la nettatura spesso si impiegavano delle raspe e delle punte metalliche taglienti e sagomate appunto quei famosi ceselli di cui vi ho parlato e di cui vi parlerò tante volte ed ecco qui il risultato definitivo la nostra testa, la nostra statua. ora se la testa è semplicemente una parte della nostra statua ovviamente è possibile eliminare ancora la terra di fusione l'argilla cotta che c'è all'interno altrimenti non importa si lascia non succede nulla la statua diventa sicuramente un po' più pesante ma non ai livelli ovviamente della pietra. grazie